Ciao a tutti e benvenuti su Magistro Flotus Allora, oggi Pills molto spicy Perché sono salite, stanno salendo, anzi Tre carte molto interessanti La prima è Detsuji, Consumis All Costa 3, distrugge tutti i permanenti che costano uno meno Poesity Cimiteri E poi diventa un 3-3 che si pompa Una carta molto forte Allora, le copie disponibili della versione regular sono pochissime Stiamo parlando di 379 Il prezzo è più che raddoppiato se non triplicato Nell'ultimo periodo E quindi è una carta che ormai ha un prezzo veramente altissimo Questo perché? Perché c'è qualche lista che lo gioca in 4x Addirittura il Legacy E quindi la carta oggettivamente sale Le mitiche che si giocano in 4x non sono così comuni Però quando succede salgono sempre tantissimo Perché appunto sono difficili da trovare Fate conto che la media per trovare 4 mitiche uguali Usando i draft box E più o meno 1 ogni 3 box Quindi più o meno 12 box Quindi sono veramente tanti Poi abbiamo The Wandering Emperor Un'altra mitica dell'ultima espansione Che sta salendo anche questa Si avvia i 15€ E... Vabbè questa multiformata è forte La stanno provando anche in Modern Provare non vuol dire che si giocherà Ve l'ho detto anche altre volte Però in questo momento si sta provando E' una playable in Pioneer E' una playable in Standard E' una playable in Commander In Commander non è proprio il suo formato Perché fa cose che non sono fortissime In Commander a costo 4 dovrebbe fare più cose Però è una playable anche in Commander E questa vi consiglio di prenderla Perché essendo una mitica Con un placewalker E' multiformato Potrebbe anche salire a 20€ Quindi ci può stare Dato ci sono delle coppie foil Questo è un refuso Ovviamente sono tutte coppie da paesi Dove... Qua segna ancora 993 Ma in realtà sono 770 Una cosa del genere La carta potrebbe salire ancora Allora Il collegamento ci sta Ban di Lurrus Sale Murtide Perché comunque Murtide è una carta Che non si può giocare con Lurrus Adesso magari si potrebbe giocare un po' di più E... Sì Ci potrebbe anche stare Io ve l'ho detto Uscirà anche un video in cui lo dico Che è stato registrato prima del ban improvviso Liliana secondo me invece potrebbe salire E vedere più gioco Perché è una carta che è stata messa In del dimenticatoio Solo per Lurrus Altrimenti sarebbe comunque stata giocata E quindi mi aspetto una salita di Liliana Un saluto e un abbraccio a Megisoflotus E alla prossima Ciao